Altra zona nuovissima di Oslo, ginnasta. Questo è il museo come tutta la zona ideata da Renzo Piano. Quella è la fortezza, ieri eravamo di là, oggi siamo di qua. Il primo fiordo, Havana Staschen, in mezzo al nulla praticamente. Il gruppo di avventurieri in mezzo alle montagne dei fiordi. Eccoli qua. Trekking con l'acqua, i superstiti, la cascata. Questa adesso... chi è che è? Capitano dei boschi. Capitano dei boschi qua. E' una ulga. E' un personaggio della foresta. Ulga, mitico personaggio, abitante della foresta. E vediamo qua, questa è un'altra ulga, anche lei mitica abitante della foresta. Mitica crevatta. Della foresta. La foresta. Il boschi. Il boschi. Il boschi. Il boschi, ce n'è solo uno. Il treno. Ah ma è... Più bello, la tratta più bella. Eccoci ai fiordi norvegesi. Fiordi. Fiordini. Fiordetti. Fiordoni. Siamo arrivati a Lanza per rientrare nel braccio principale del sogne fiord. Fiordetti. 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 F Questa è Voss, la cortina da Ampezzo di Norvegia. Cattedrale, abbiamo visto. banca via principale e tutti intorno adesso non si vede tanto bene le montagnette con le piste da sci di tutti i generi siamo arrivati a bergren questo queste casette sono patrimonio nazionale dall'unesco e questo è bergren al tramonto sono le 10 e mezza circa stiamo facendo festa sulla mia barchetta adesso vado lì anch'io a questa festicciola qui a bergren vado lì a metterli a posto insomma